Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra Ucronia, al nostro mondo alternativo in cui proviamo a immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se l'impero romano fosse sopravvissuto. Se nel 476 d.C. Giulio Nepote, invece che andarsi a ritirare in Dalmazia e lì morire dimenticato dalla storia, fosse tornato sul trono di Roma insieme a Dodoacre, scacciando Romolo Augustolo e il padre Oreste e avesse dato vita ad una schiatta di imperatori attraverso credo almeno una decina buona di dinastie che due ancora fino al 1939, perché nella puntata di oggi parleremo proprio del 1939, un anno che nella nostra timeline, lo sapete benissimo, ha voluto dire lo scoppio della seconda guerra mondiale, lo avete visto, in Orbis ci sono tanti movimenti che portano verso la guerra, chissà se anche in questo mondo il 1939 è stato fatale per la pace, lo vedremo ovviamente in questa puntata. Prima di iniziare due cose, la prima ovviamente come sempre grazie ai ragazzi della wiki che curano la wiki di Orbis, dove se volete approfondire tutta questa storia potete andare a spulciare, sia che abbiate visto tutti i video, che sono tanti perché ovviamente ci sono tante cose in più, molti più approfondimenti che io nei video non riesco a fare, sia che invece i video li dobbiate ancora a vedere tutti, magari non avete tempo per farlo, i video invece li trovate in descrizione della nostra playlist. La seconda cosa, come sempre, e se non siete già iscritti al canale fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, a questo punto sigla e iniziamo a raccontare il 1939 di Orbis. L'intero mondo di Orbis, all'inizio del 1939, non ruota tanto. intorno al suo asse naturale, ma ruota intorno alla Confederazione di Nova Terra, cioè allo Stato romano che occupa circa una metà del territorio più meridionale di Nova Terra, quindi dell'America. Abbiamo visto negli ultimi anni come la Confederazione si è progressivamente esplosa politicamente, una dialettica che esisteva da molto tempo tra la fazione unionista che voleva uno Stato maggiormente centralizzato e la fazione invece confederale che voleva dare maggiori poteri ai singoli Stati, soprattutto questa presente nel Nord, dove gli Stati più antichi sono anche gli Stati più ricchi che maltollerano le spese utili per lo sviluppo invece degli Stati più meridionali più recenti. Ebbene, questa dialettica è esplosa negli ultimi anni. Questo a causa di un Presidente Pumareno, eletto prima per due mandati e poi addirittura per un terzo, che ha iniziato una, anche in seguito ovviamente alla crisi economica, si è allontanato dalla classica politica di vicinanza con la Repubblica, quindi con Roma, e ha iniziato una politica di vicinanza invece con l'Impero, che si trova poco a Nord, è stato per molto tempo dominatore anche del territorio confederato, da cui la Confederazione si era staccata dopo una lunga guerra, e che era stato anche per tanti anni un nemico. Pumareno ha invece iniziato un rapporto con l'Impero anche di tipo economico. Molti hanno iniziato a temere che in questo modo la Confederazione potesse entrare all'interno dell'Impero stesso, o quantomeno entrare nella sua orbita, e questo, unito al malcontento, ha spinto gli Stati del nord della Confederazione alla rivolta. Una rivolta esplosa definitivamente in una guerra civile quando Pumareno ha ottenuto il terzo mandato. Ora, la parte meridionale invece della Confederazione è rimasta legata a Pumareno. Questo perché la parte meridionale ovviamente teme questa politica di separazione del nord, teme di essere dimenticata, lasciata indietro, di perdere tutti quegli aiuti che ha ricevuto per l'espansione in questo periodo, ma soprattutto perché la parte meridionale è composta principalmente da nuovi immigrati, non sempre peraltro provenienti dal mondo romano, a volte anche da altre zone dell'Europa, soprattutto dopo la magna guerra, teme in qualche modo che queste politiche, staccandosi da Pumareno, possono ovviamente far perdere loro anche il treno economico. Se il nord infatti ha uno sviluppo comunque importante che gli permette di commerciare quasi alla pari con la Repubblica, il sud invece produce principalmente materie prime, soprattutto metalli, e per questo il commercio con il vicino impero in espansione è decisamente più redditizio. Fin dall'inizio Pumareno, una volta scoppiata la rivolta nel 1938, Pumareno ha potuto avere dalla sua l'esercito, che gli è rimasto fedele, sia per una questione di continuità, ma soprattutto perché proveniente soprattutto dalle zone meridionali, i suoi abitanti, e grazie a quell'esercito è riuscito ad occupare uno dei tre stati che si erano mantenuti neutrali all'inizio della contesa, cioè il territorio di Birù, che grosso modo corrisponde all'attuale Perù, Perù, chiedo scusa, e trasformare la parte invece meridionale di Equatoria e di Miranda, quindi Colombia, la parte meridionale della Colombia, e dell'Equador nel nuovo campo di battaglia. Dall'altra parte la Confederazione inizialmente si era trovata in difficoltà dal punto di vista dell'esercito, perché aveva a disposizione meno truppe, ma questo era stato progressivamente recuperato grazie alla maggiore disponibilità di fabbriche, soprattutto le grandi fabbriche di armi, l'industria pesante, che era principalmente presente in questa zona, ha una certa carenza di materie prime, ma in qualche modo insomma la situazione era stata recuperata. In realtà il grosso problema per l'esercito confederato è un altro, ed è legato al fatto che ovviamente ognuno degli stati ha creato delle milizie locali e, proprio per questa tendenza all'autonomia, hanno poco piacere di unirle insieme, con il risultato che molto spesso le campagne condotte non sono state condotte nel migliore dei modi. Aggiungiamoci che una buona parte degli ufficiali è rimasta già formata, è rimasta fedele all'esercito unionista, la situazione, che vedo ovviamente questi come dei ribelli, non come degli stati autonomi, la situazione è diventata ben presto molto complessa. Attenzione su una cosa, nonostante i nomi confederati unionisti è molto diverso rispetto alla guerra civile americana. Seguite quello che vi sto raccontando. Ad ogni modo, fin dall'inizio, la Repubblica, da una parte e l'Impero dall'altra, hanno comunque appoggiato quelle che lo sono le fazioni a loro più favorevoli, con l'invio di armi, con l'invio di denaro, anche con l'invio di istruttori e fin dall'inizio anche aiutando l'arrivo di forze volontarie che si unissero l'una all'altra fazione. Nella confederazione è nato un movimento cosiddetto garibaldino, che rifacendosi a Giuseppe Garibaldi, che era stato il grande eroe della rivoluzione che aveva permesso alla confederazione di staccarsi dall'Impero e poi ne era stato anche presidente, rifacendosi proprio a Garibaldi, formano dei gruppi di unione proprio con la confederazione. Il loro grido è quello che sia riniziata la rivoluzione di allora, che Garibaldi li guidi nella lotta contro l'Impero, che viene visto praticamente come la longa mano che ha spinto Pumareno alle sue modifiche. Dall'altra parte invece Pumareno inizia a ricevere una vera e propria legione straniera di uomini provenienti da tutta Europa e anche dall'Impero, che in realtà l'Impero in questo caso più che mandarli come volontari li manda quasi come mercenari pagati. All'interno di questa legione arriva veramente di tutto, ex crocisti, ex sandenisti provenienti dall'Europa che si sono trovati non in grado di continuare a combattere, membri del partito di D'Annunzio che sono riparati nell'Impero, che provengono ancora dalla Repubblica e che trovano proprio nella lotta all'interno della confederazione la possibilità di rendere un po' più vicino il loro sogno, quindi riunificando almeno due delle tre grandi componenti del mondo romano nell'attesa poi di riunire anche il terzo. La situazione per alcuni mesi rimane quindi relativamente stabile, con un'avanzata parziale di Pumareno a cui però la confederazione riesce a porre sempre più rimedio. Le cose però erano cambiate alla fine del 1938, quando le forze dell'Unione, una parte in realtà principalmente membri della cosiddetta legione straniera, erano sbarcati a Nova Venezia. In realtà fino a questo momento la confederazione aveva considerato il mare quasi una sua proprietà. Se il grosso dell'esercito era rimasto fedele a Pumareno, il grosso della marina era invece rimasto fedele alla confederazione, anche perché i grandi porti si trovavano nel nord, e qui si trovavano le navi. Grazie a questa marina erano riusciti a controllare i mari e anche a iniziare una serie di vero e proprio blocco ai danni degli paesi più meridionali. A sorpresa però era stato l'impero a intervenire, l'impero a mandare le sue navi e a bordo di quelle navi mandare proprio le forze della legione straniera che erano sbarcate a Nova Venezia e avevano occupato la città. Le truppe non erano tantissime ma la città era praticamente sguarnita perché l'esercito si trovava a sud ed erano riusciti a catturare una delle principali, se non la principale città della confederazione quasi senza colpo ferire. La cosa ovviamente aveva molto rapidamente agitato la repubblica, repubblica la quale aveva fino a questo momento tollerato la situazione di confronto con l'impero ma che ora che l'impero scendeva direttamente in campo utilizzando le sue forze, anche senza ufficialmente dichiarare guerra, senza mandare l'esercito la cosa non era più tollerabile. La repubblica mandò un durissimo ultimatum all'impero e per accompagnare quell'ultimatum Bonomi decise, Bonomi è il primo ministro della repubblica, decise di accompagnare l'ultimatum con l'invio di buona parte della flotta che attraversò l'Atlantico e andò a fermarsi nei territori più orientali, chiedo scusa, della confederazione in una tacita minaccia verso l'impero. L'ultimatum era molto semplice, se l'impero non ritirava le sue navi e non impediva l'utilizzo delle sue forze, del suo territorio ai ribelli, la repubblica sarebbe scesa direttamente in guerra a fianco dei confederati. L'impero dall'altra parte mandò un contro ultimatum. Cesare, fedele a quelle che erano le idee del nonno, l'imperatore Cesare, disse che nessuno stato europeo, anche la repubblica, doveva interessarsi degli affari di Nuova Terra, che Nuova Terra erogano affari dei novateriani e che dunque la repubblica doveva tenersi lontana, altrimenti avrebbe mandato lui, la flotta, ad affondare quella repubblicana. Per riuscire ovviamente ad accompagnare questa minaccia aveva richiamato la flotta, che in quel momento si trovava in gran parte a Taiwan, dove vigilava sul rispetto degli accordi di pace tra la Cina e il Giappone ed era tornata indietro, verso Nuova Terra, verso le Americhe, come le chiameremo noi, proprio per fronteggiare la forza repubblicana. In realtà fin dall'inizio due stati non erano stati molto propensi alla guerra. Nell'impero, nella repubblica avevano in quel momento un reale interesse nella guerra e tutte e due si erano ben presto resi conto che una guerra era impossibile in quel momento da combattere a così grande distanza, soprattutto tra due potenze così grandi. Il timore ad un certo punto fu quello che, se le due flotte si fossero scontrate in qualche modo da addeggiate affondate, gli unici che ne avrebbero guadagnato sarebbero stati i nemici dell'impero e della repubblica. Nonostante questo, nessuno dei due, per prestigio dello Stato, poteva in nessun modo mollare. E così per due lunghi mesi, mentre la lotta continuava all'interno della Confederazione, le due flotte, una arrivata nella zona di Panama e l'altra appunto nella Confederazione, continuarono a guardarsi in Cagnesco pronti a saltarsi alla gola. In realtà c'era un'altra nazione che stava lavorando per cercare di porre fine a questa situazione e quella nazione era l'Olanda. L'Olanda aveva avuto durante la magna guerra l'alleanza, se non proprio dichiarata, ma tutti gli effetti palese, dell'impero che aveva partecipato alla guerra. Dall'altra parte si stava avvicinando negli ultimi anni alla Repubblica per una vicinanza politica legata alla situazione in Europa e aveva bisogno probabilmente di entrambe le alleanze sia per motivi economici, per continuare a rilanciare la sua economia, sia per motivi politici e interessi diversi da una parte e dall'altra del mondo. A questo punto l'Olanda aveva iniziato a cercare di farsi mediatrice tra le due potenze, aveva proposto degli accordi, aveva cercato di evitare che si arrivasse a uno sconto definitivo, continuando a tenere aperto tramite i suoi diplomatici un canale tra le due nazioni romane. Aveva cercato addirittura di intervenire all'interno della Confederazione, utilizzando come base il Brasile, che un tempo era una colonia e con cui i rapporti si erano poi progressivamente normalizzati, per riuscire a cercare un accordo all'interno della Confederazione che potesse in qualche modo evitare qualunque scontro. Questo lavoro dell'Olanda, però, ad un certo punto, venne messo in forte pericolo, anzi crollò praticamente in contemporanea, a causa dell'azione di un uomo solo. All'interno della Confederazione, all'interno del lato confederato, quindi del nord e del nord ribelle, infatti non tutti erano propensi ad un accordo. Alcuni credevano che lo scontro con l'impero sarebbe stato inevitabile, che Pumareno non sarebbe mai potuto accettare un accordo al ribasso e che l'impero comunque prima o poi sarebbe entrato in guerra e avrebbe cercato di invadere la Confederazione. Allora, tanto valeva dichiarare guerra subito, entrare subito in guerra e tirare a proprio vantaggio la Repubblica. Tra coloro che pensavano che fosse necessario dare un colpo all'impero, c'era anche uno dei migliori marinai del mondo dell'epoca, che si chiamava Teseo Tesei. Non era solo un marinaio, era soprattutto un ingegnere, era un uomo che aveva progettato tutta una serie di mezzi navali che lui stesso aveva progettato nell'idea di una guerra asimmetrica con l'impero. All'interno della Confederazione, pur avendo una flotta normale d'altura, ci si era ben presti resi conto che un confronto militare con l'impero ancora per parecchi anni dal punto di vista navale sarebbe stato difficile e per questo si era sviluppata una tecnica di utilizzo di navi più piccole, sottomarini e masse, che avrebbero dovuto attaccare la flotta imperiale, danneggiarla e rendergli difficile un eventuale utilizzo per supportare l'esercito all'interno della Confederazione. Per questo avevano creato dei cosiddetti maiali o siluri a lenta corsa, che vennero utilizzati nella notte del 28 marzo del 1939 per attaccare la flotta imperiale che si trovava in Rada a Panama. Era una notte senza luna. Le forze di Teseo Tesei entrarono da alcuni masse all'interno della Rada dove la flotta stava riposando, peraltro relativamente tranquilli dato che non si aspettavano un attacco dalla Confederazione e avevano uno schermo di sottomarini spostato per anticipare un eventuale attacco da parte invece della Repubblica. I masse scivolarono all'interno della Rada e alcuni sommozzatori, utilizzando questi siluri a lenta corsa, piazzarono delle cariche esplosive riuscendo a distruggere una corazzata imperiale e a danneggiarne un'altra. Le perdite non furono elevatissime, anche perché in realtà poco prima delle esplosioni i confederali riuscirono ad annunciare la cosa che stava succedendo e molto rapidamente gli imperiali abbandonarono le navi. Ma ovviamente un attacco del genere al prestigio dell'impero non poteva passare impunito. Cesare, una volta che seppe quello che era successo, mandò un ultimatum durissimo alle forze ribelli. O si fossero ritirate, o la ribellione fosse finita, o lui avrebbe mandato le truppe. E quelle truppe avrebbero attraversato il confine a Panama e, parole sue, avrebbero dilagato e messo a ferro e fuoco l'intera confederazione per punirla dell'attacco. La Repubblica, dall'altra parte, non aveva intenzione ovviamente di mollare. Nonostante avesse protestato su tutti i canali privati per questo attacco, definendolo irrispettoso e soprattutto che avrebbe dovuto essere annunciato prima di essere fatto, la Repubblica non poteva abbandonare il suo alleato. E per questo disse che se l'impero fosse sceso in guerra, anche lei lo avrebbe seguito. L'Olanda a questo punto era disperata, fece un ultimo disperato tentativo di fermare la guerra. A fermarla però non sarà l'Olanda, ma saranno curiosamente altri due conflitti, uno che scoppierà e uno che peggiorerà. Partiamo da quest'ultimo, l'India. L'India negli ultimi anni era stata sempre più una spina nel fianco della Repubblica, una spina nel fianco sanguinosa, in cui la Repubblica aveva investito risorse, forse più di quelle che l'India stessa gli forniva, risorse che non erano riuscite però a pacificare un territorio spaccato in due, tra la componente in due e quella musulmana, ma soprattutto spaccato tra chi, la maggior parte, voleva un'autonomia, come aveva già ottenuto la Repubblica Indiana Sud, e chi invece voleva continuare a rimanere legato alla Repubblica. Ora, Bonomi, in realtà da molto tempo avrebbe voluto avviare, come avevano fatto gli olandesi in passato, un percorso che portasse l'India all'autonomia, ma tutto questo gli era impedito per motivazioni politiche. La sua maggioranza stava in piedi anche a una più piccola componente liberale che però gli dava i voti per rimanere in Parlamento. Aveva già valutato alla fine del 1938 di poter sciogliere il governo in anticipo, indire nuove elezioni, sicuro che quelle elezioni le avrebbe vinte grazie alla ripresa economica, ma ovviamente lo scoppio della guerra lo aveva sconsigliato. E ora, dato che i liberali pressavano per mantenere il controllo dell'India, il peggioramento della rivolta non fece che rendere le cose più difficili. Il peggioramento della rivolta vuole dire che Chandra Bose, il capo della ribellione, lo vedete sulla cartina, veramente bellissima, fatta da storica l'Italia, Mamer, ce l'ho fatta dirlo bene, la parte occupata, Chandra Bose, che aveva deciso di mettere da parte le lotte semplicemente terroristiche, aveva espanso il suo controllo. La cosa che però era peggiorata è che tra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 1939 ci furono una serie di ribellioni all'interno delle forze indiane, teoricamente in appoggio alla Repubblica, che abbandonarono le forze repubblicane, disertarono e passarono con le forze di Chandra Bose, che improvvisamente si trovavano quasi ad avere un esercito pari a quella a disposizione del governatore dell'India. Ora, inizialmente la Repubblica aveva progettato di mandare delle truppe di supporto, anche truppe regolari, insomma, dopo qualche anno l'opposizione a una guerra all'interno della Repubblica stava iniziando a calare, però, però, queste truppe regolari alla fine non erano state mandate, perché si iniziava a temere di dover intervenire dall'altra parte del mondo ed erano state mantenute nella Repubblica. La situazione in India stava diventando molto difficile da gestire. Dall'altra parte, però, poco a est, stava scoppiando un'altra guerra, e questa guerra stava scoppiando in Cina. La Cina, come sapete, era uscita un po' con le ossa rotte diplomaticamente dagli accordi imposti dall'impero, che l'avevano spinta a rinunciare al territorio della Manciuria, lo vedete qua, proprio all'inizio del 1939 rinasce, viene creato un consiglio di saggi, tra virgolette, sette rappresentanti per le sette province della Manciuria, che si riunirono proprio all'inizio del 1939 per cercare di creare un nuovo sistema che, verosimilmente, sarà una democrazia provinciale, per così dire, con le varie province che manderà di loro rappresentanti al Parlamento. La Manciuria, però, è ancora uno stato molto instabile, perché al suo interno ci sono una quinta colonna, tra virgolette, giapponese, rimasta lì dalla dominazione, ma soprattutto c'è un'importante quinta colonna lasciata dai cinesi, che si sono sì ritirati seguendo gli accordi, ma lasciandosi aperta ogni strada un giorno per occupare la Manciuria. Il problema, però, in questo inizio del 1939, non è la Manciuria, perché la Cina, quando vide che gli imperiali avevano ritirato la propria flotta, si rese conto che quello era forse il momento migliore per riuscire ad ottenere qualcosa, portare avanti il loro progetto, senza nessuna opposizione. Una parte dei territori che un tempo erano stati cinesi a sud erano ancora autonomi, i cosiddetti territori dello Yunnan, uno stato che formalmente era uno stato unico, ma che in realtà era diviso tra i territori di vari signori della guerra, che, al momento della divisione della Cina parecchi decenni fa, avevano mantenuto la loro autonomia. La Cina, ovviamente, continuava a rivendicare quei territori come suoi, parlava apertamente, sia l'imperatore che il suo primo ministro Chiang Kai-shek parlavano apertamente di una provincia ribelle. Per questo avevano cercato, anche dal punto di vista economico, di bloccare quella provincia, creando praticamente una specie di cordone di sicurezza economico intorno a lei per affamarla. E a questo lo Yunnan aveva risposto andandosi a legare in un'alleanza 4 con gli stati indocinesi. Esisteva però un punto di passaggio, una città del sud della Cina, con cui il commercio era ancora permesso. Un vero punto di passaggio regolato tra la Cina e lo Yunnan, che era stata fonte di numerose polemiche, perché lo Yunnan lo vedeva come un'imposizione troppo forte. La città era Nanning. Il 29 di marzo, quindi veramente il giorno dopo lo scoppio delle corazzate imperiali nella Confederazione, il 29 di marzo del 1939 era una giornata qualunque a Nanning. Un convoglio composto da merci provenienti dallo Yunnan entrò in città. I doganieri gli si fecero contro. Improvvisamente dal convoglio scesero, che era un convoglio bisogna dire abbastanza strano, scesero dei soldati. Avevano uniformi varie, ma provenivano palesemente dallo Yunnan, monte di quelli uniformi. Scesero, attaccarono i doganieri, li uccisero, presero d'assalto la zona dove si trovavano, si trova la dogan, rubarono più merci possibili e poi dopo aver abbandonato i carri, che erano ovviamente solo una copertura, tornarono verso lo Yunnan. Quando in Cina si seppe quello che era avvenuto, un'ondata di sdegno, ovviamente ampliata dai giornali cinesi stessi, si diffuse dalla popolazione e molti chiesero che lo Yunnan venisse punito. La Cina in effetti mandò un durissimo comunicato allo Yunnan, chiedendo che venissero restituite non solo le merci, ma anche i colpevoli di quell'attacco, indicando dei colpevoli non solo gli uomini che avevano partecipato, ma anche gli stessi signori della guerra. Lo Yunnan dall'altra parte rispose che lui di quell'attacco non sapeva nulla, non erano truppe di nessuno dei signori della guerra, erano probabilmente truppe autonome, ma forse la storia era diversa, perché qualcuno dirà che quell'attacco, l'incidente di Nanning come passerà alla storia, era stato un attacco falso. Quelli non erano soldati dello Yunnan, quelli erano soldati cinesi. La Cina aveva approfittato del fatto che l'impero era distratto per decidere di porre fine alla ribellione. Il giorno dopo, senza rispondere neanche al comunicato dello Yunnan, la Cina, che aveva già le truppe pronte, era tutto programmato, invase quei territori. I signori della guerra a parole dissero che avrebbero difeso i loro territori come sempre, ma la differenza tra un esercito moderno e il loro peraltro separato si fece sentire praticamente fin da subito e l'esercito cinese entrò nello Yunnan come un coltello del burro. Inarrestabile. Questa volta sono riuscito a usare la parola giusta. Ovviamente l'alleanza si trovò improvvisamente in guerra, una guerra che nessuno voleva, perché quell'alleanza era sì un'alleanza difensiva, ma tutti speravano di non doverla usare. L'alleanza chiederà aiuto alla Repubblica, che però non ne aveva modo di fermarla, chiederà aiuto all'Olanda, che si troverà ancora più in difficoltà, perché negli ultimi tempi si stava riavvicinando economicamente in qualche modo alla Cina, pensando anche di sostituire economicamente l'impero nella zona. Insomma, nessuno sembrava potersi occupare dello Yunnan. Tutti stavano guardando la Confederazione e proprio a questo puntavano i cinesi, che occuperanno lo Yunnan e addirittura invaderanno il nord del Vietnam, creando una specie di stato cuscinetto. A questo punto, Repubblica da una parte e Impero dall'altra si resero conto che i loro interessi forse erano altrove e questo salvò la guerra. L'Olanda, grazie a loro, riuscirà a mediare la possibilità di parlare. Verrà indetta una conferenza a Maastricht e verrà anche lanciata una tregua che porrà fine per poco più di un mese ai combattimenti tra i confederati e gli unionisti all'interno della Confederazione. Sulla carta l'Olanda avrebbe voluto raggiungere un accordo totale, risolvere alla base questo problema, ma questo non fu possibile. I rapporti tra gli unionisti e i confederati erano troppo difficili e ben presto l'Olanda si rese conto che non aveva nessuna possibilità di porre fine direttamente a quella guerra e a questo punto decise di cambiare il suo obiettivo. L'obiettivo divenne quello di evitare che quella guerra civile diventasse una nuova magna guerra e per questo lavorò sulle diplomazie imperiali repubblicane giungendo ad un compromesso. I due stati firmarono di comune accordo una non belligeranza della durata di tre anni. Promisero l'un l'altro di non attaccarsi, a meno che ovviamente l'altro non avesse direttamente attaccato un loro alleato, promisero una pace tra di loro. Era un accordo a metà. Era un accordo da una parte importantissimo perché per la prima volta i due stati firmavano un accordo di questo genere e era una vera e propria rivoluzione. Dall'altra parte però ovviamente si intendeva in questo modo non poter utilizzare direttamente l'esercito, ma i due stati continuavano ad avere mano libera per poter operare all'interno della confederazione, aiutando uno e aiutando l'altro, cosa che era molto importante per loro sia a livello politico che come proiezione di potenza. Nei mesi successivi la guerra riesploderà in tutta la sua furia. Le forze confederali del nord riusciranno in parte ad avanzare tra settembre e ottobre e progressivamente le forze di Pumareno inizieranno a perdere forza. A questo punto però grazie all'aiuto imperiale e all'aumento dei numeri della legione la situazione verrà tamponata, anche perché all'interno della legione uscirà un generale Francesco Libero proveniente dalle forze, proveniente in realtà era originario della Repubblica, dell'Iberia, aveva partecipato al tentato push di dannunzio e si era poi trasferito appunto in questa zona a combattere con la legione che guiderà la legione al contrattacco contro le forze confederali del nord e inizierà a diventare sempre di più l'uomo di punta dell'esercito unionista. La guerra nella confederazione continuerà ma almeno per ora né impero né repubblica sembreranno interessati a farsi la guerra. I due stati, come vi dicevo, a questo punto tornano ai propri interessi. L'impero torna a guardare all'Asia. A questo punto lo Yunnan è completamente occupato. L'impero cerca in tutti i modi di fermare la Cina, impedire alla Cina di andare avanti. La trattativa di pace per lo Yunnan però per la Cina non esiste. Lo Yunnan è una provincia ribelle che è stata riportata al suo controllo. L'imperatore si rende ben presto conto che in questa situazione non può intervenire. Ha ancora bisogno, la flotta rimane ancora per troppo tempo lontana e deve accettare come un fatto compiuto la parità dell'O Yunnan. Ma riesce ad obbligare i cinesi a ritirarsi dal nord del Vietnam, tornare al loro interno e a siglare una pace con gli altri tre stati. Non solo, ma avanza la sua protezione a quegli stati, affermando apertamente che la Cina non potrà più invaderli. La cosa viene presa in Cina come il secondo schiaffo da parte imperiale. Questo gira in questo modo e i rapporti tra le due nazioni sono ormai profondamente incrinati. L'impero continua a considerare la Cina quasi una propria colonia. Dall'altra parte, la Cina non ha nessuna intenzione di accettare la cosa. Per questo Chiang Kai-shek alla fine del 1939 interviene in maniera sempre più energica sugli oligarchi, tra virgolette, chiamiamoli così, sui grandi proprietari di industria cinesi ma provenienti dall'impero. Molti di loro vengono arrestati, accusati di attività anti-imperiale, vengono accusati di attività contro il popolo cinese. Viene fatta una campagna di stampa contro le condizioni di lavoro in molte di queste fabbriche che creano grosso malcontento in Cina, dimenticandosi di dire che quelle condizioni erano state ampiamente accettate dal governo cinese proprio per stimolare l'economia della Cina. Molte di quelle fabbriche vengono nazionalizzate, passano nelle mani di prestanome che in realtà si rifanno a Chiang Kai-shek e all'imperatore. La Cina sta iniziando una guerra anche economica contro l'impero. In India invece la situazione è più complessa per la Repubblica, non c'è uno stato con cui trattare. La Repubblica a questo punto ottiene però un vantaggio. In effetti non tutti in India erano d'accordo con questa rivolta, come vi dicevo. Soprattutto c'era una parte, quella componente musulmana che era una buona percentuale della popolazione indiana, anche perché venendo a mancare tutta la parte meridionale, la situazione nella colonia romana è molto più equilibrata rispetto all'India della nostra timeline, ebbene quella componente musulmana non vedeva di buon occhio la rivolta di Chandra Bose, che temeva potesse in qualche modo portare ad un'India del nord che o si sarebbe unita all'India meridionale, con il risultato quindi di sbilanciare completamente verso la componente hindu la bilancia, oppure avrebbe potuto portare a un'altra India comunque governata dagli hindu. Il risultato fu che a sorpresa dopo aver cercato una sponda nel movimento pacifista di Gandhi e non averlo ottenuto, la Repubblica riuscì ad ottenere quella sponda nei movimenti musulmani guidati da Muhammad Ali Jinnah, i quali improvvisamente diedero appoggio alla Repubblica per riportare, si disse così, l'ordine contro il ribelle Chandra Bose e quei ranghi dell'esercito del governatore che si erano svuotati di hindu passati con Chandra Bose si riempirono nuovamente di musulmani. Grazie a questa leva e a una serie di proclami lanciati dallo stesso Jinnah e dal governatore romano, improvvisamente a Roma la situazione indiana che sta portando verso una progressiva autonomia tornerà a bilanciarsi. I movimenti, i giornali più nazionalisti faranno molta pressione che l'India venga mantenuta, i liberisti ovviamente aiuteranno e questo obbligherà il governo Bonomi ad investire nuove risorse in India nel tentativo di porre fine alla ribellione. Come andrà? Ovviamente lo vedremo insieme. Ci siamo concentrati sulle parti esterne di Nuova Terra, sull'Europa in effetti c'è pochissimo da dire, alcune cose vanno ovviamente avanti come sono andate nell'anno precedente, in Normandia continua l'evoluzione in senso comunista dello Stato con parecchie difficoltà, in Inghilterra il governo di Atli si elimina qualunque rimasuglio di coloro che avevano dato appoggio a Mosley in una serie di eliminazioni mirate che hanno il loro effetto. In realtà in effetti l'unica vera grossa notizia che c'è in Europa è purtroppo una notizia che viene dai territori dei Russe. Lo sapete, nei territori dei Russe si era sviluppato un diffuso antisemitismo, antisemitismo che aveva portato, ufficialmente con lo scopo di proteggere la comunità ebraica, ad una legge per la registrazione degli ebrei. Nel 1939 però l'imperatore Alessio fa un passo ulteriore. E dopo una serie di incidenti, probabilmente anche qui provocati, e la ripresa dei pogrom, degli attacchi da parte dei figli di Maria contro la componente ebraica, dopo aver pubblicato una serie di volumetti in cui si elencava, pensate, il fatto che gli ebrei fossero una specie di quinta colonna del comunismo all'interno del territorio dei Russe, che volevano indebolire lo stesso contesto politico dell'impero, a vantaggio ovviamente della Grecia, iniziano una serie di leggi liberticide contro gli ebrei stessi. Sono leggi che impediscono agli ebrei di svolgere alcuni lavori, sono leggi che impediscono agli ebrei di possedere più di un tot di case, di industrie, impediscono agli ebrei di avere dei dipendenti per loro in fabbriche che non siano a loro volta ebrei, insomma una serie di leggi che a tutti gli effetti rendono gli ebrei dei cittadini di serie B, togliendo loro anche diritti e affermando chiaramente che se avessero lasciato il territorio dei Russe si sarebbero trovati a perdere tutto, dover lasciare tutto indietro. Queste leggi liberticide anti-ebraiche, che in qualche modo andavano a minare una componente importante della popolazione Russe, saranno in realtà accettate dalla maggior parte del popolo, ormai indottrinato da qualche anno dai figli di Maria in maniera del tutto normale. Sarà normale per tutti denunciare il loro vicino ebreo, che possiede troppo rispetto alla legge e improvvisamente il popolo letteralmente si spaccherà da una parte gli ebrei, dall'altra gli altri. Gli attacchi continueranno e la situazione sta evolvendo in senso negativo. Peraltro movimenti antisemiti iniziano a svilupparsi anche nei territori vicini alla Russia. Abbiamo già parlato che ce ne sono i territori svedesi, ci iniziano a sviluppare sempre di più in Bulgaria, accompagnati proprio dallo sviluppo locale dei figli di Maria, iniziano a esserci anche nei territori polacchi. Vedremo ovviamente come continuerà. L'ultima cosa da dire sull'Europa sono i nazionalismi. Il 1939 è un anno in cui la polemica nazionalista, portata avanti principalmente dai territori, dai Russe e dai Longobardi, continua. Goering ormai parla espressamente di una oppressione da parte olandese sui fratelli Longobardi. Continua a chiedere un referendum anche per questi territori, su cui ovviamente l'Olanda è completamente sorda, ma soprattutto continua a rilanciare il fatto che nel 1940 si dovrà tenere un referendum nei territori della Burgundia. Potrebbe essere un buon banco di prova politico per capire che cosa succederà della Longobardia. Dall'altra parte, anche i Russe ormai parlano apertamente del fatto che i territori di Novgorod, sia sotto un qualche punto di vista, occupati dagli svedesi. Anche qua gli svedesi non sentono, fingono assolutamente di non sentire, anche perché in effetti dal punto di vista storico la cosa fa abbastanza ridere. Non è mai esistito un'unità russe in tutta quella che noi chiamiamo Russia della nostra timeline e quindi la cosa è oggettivamente strana. È una polemica prettamente politica, prettamente anche ad uso interno. Potrebbe portare a un peggioramento delle relazioni o potrebbe progressivamente essere abbandonata. Questo lo decideremo insieme. Bene, io mi fermo qua. Oggi ci siamo concentrati più su una parte del mondo, ma credo fosse un evento importante, credo che ci siano tanti spunti di cui ragionare anche per il futuro. Il futuro sarà tra due settimane, perché la prossima settimana è una settimana un po' particolare, un po' speciale. Quindi non ci sarà la puntata di Orbis domenica, ci saranno altre cose, vedrete, ma riprenderemo fra due settimane. Abbiamo ottenuto una buona scansione una settimana per un po', saltiamo una settimana e poi riprendiamo. Anche perché credo che di quello che vi ho raccontato ci sia tanto, tanto, tanto da ragionare. Sicuramente il mondo di Orbis è un mondo molto violento. Vedremo come evolverà. Io vi ringrazio, ringrazio tutti voi per i vostri commenti, l'aiuto, perché tutta questa ucronia non esisterebbe senza di voi. Ringrazio ancora una volta i ragazzi della Wiki, vi dico che se volete rivedere tutti gli episodi li trovate in descrizione nella playlist, ci sono anche le live che abbiamo dedicato. E per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun registro a me ha la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qui a fianco, c'è l'elenco delle pidole uscite. Fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia e tra due settimane per andare avanti con Orbis. A presto, ciao ciao!